visita al santissimo sacramento O mio Gesù, sempre presente realmente in corpo, sangue, anima e divinità nel santissimo sacramento dell'Eucaristia, voglio amarti e adorarti in riparazione di tutti coloro che non ti amano e non ti adorano, di coloro che non credono, di coloro che rinnegano e disprezzano la tua divina e perenne presenza reale nel santissimo sacramento dell'Eucaristia. Mio Dio, ti adoro e ti amo e mi unisco all'adorazione amorosa e silenziosa delle miriadi di angeli che invisibili all'occhio umano sono sempre presenti attorno ad ogni tabernacolo eucaristico. Mi unisco anche a tutte le anime sante che sulla terra ti amano, specialmente alle anime da te più predilette che sono le anime vittime, piccole ostie d'amore che si consumano per te di ora in ora nel sacrificio, senza riserve. Concedimi mio Signore di supplire alla freddezza e all'indifferenza di tanti cuori umani che non vengono mai a visitarti in questo gran sacramento d'amore, correndo invece dietro ai falsi idoli del mondo e non sanno trovare in te la fonte di ogni vero bene, rifiutando in tal modo la pace e la dolcezza che si provano unicamente stando alla tua divina presenza e ricevendoti ogni giorno nel cuore. Mille anni nei palazzi degli uomini, scriveva all'ardente giovane San Gabriele della Dolorata, non possono equivalere ad un'ora soltanto trascorsa ai piedi del tuo altare, o Gesù. Per perseverare nel tuo amore, Gesù, e in questo mio santo proposito di adorazione e di riparazione, mi affido alla potente intercessione dell'Immacolata, che prendo anche come sublime modello di adoratrice santissima e umilissima. O Madre del mio Signore e Madre mia, Maria Santissima, insegnami ad adorare il tuo divin figlio Gesù, come lo adorasti tu quando si incarnò nel tuo purissimo seno, come lo adorasti quando lo stringesti per la prima volta alla sua nascita fra le tue braccia, offrendolo all'adorazione delle milizie celesti e dei pastori e poi a quella dei magi, come lo adorasti durante tutto il corso della vita nascosta a Nazareth, come lo adorasti tu sola nella sua dolorosissima e sanguinosa passione e morte, vedendo in essa la volontà del Padre che così volle la sua emolazione e cruenta per la nostra salvezza, come lo adorasti infine esanime fra le tue braccia, stando ai piedi della croce sul Calvario, ed infine come lo adorasti nel Gaudio più grande quando ti comparvi risurdo. Rendimi come te, Madre mia Divina, fiamma d'amore ardente. Amen. Amen.